Sinfonia del mare Sinfonia del lag La Genkidama Lentamente Eh carina Iper schianto delle tenebre Oh Seriamente fa apparire il ring Io scherzo Oh shit E' dall'infinitesima corda Ok Non proprio Ok Non lo lascia evolvere E' la mia bambina Non si può mettere quei vestiti lì No non volevamo un'altra fuocolotta Però volevamo che almeno Lo nascondesse un po' meglio Dicono che se guardi con attenzione L'adesivo con suo scritto buio si stacca Collera del guardiano Che bella posa E' la miseria E' la miseria Pfff Un one hit KO O Un'animazione Super elaborata Che poi Non fa comunque niente Splash Z Ok Ok Uhuuu In realtà mi son dovuto trattenere Dentro sto esplodendo dalle risa Non ho più il fegato Voracitas E' uno Snorlax Oh sono Dexio e Annalisa Ok ci sono altre interruzioni filler Eeeh dobbiamo darti il Potere Q Ready go Parla come mangi Mettere parole in inglese mentre parlo in italiano We're a loser E' perchè è un seguace di Funzinator E' tipo Eeeeeee I miei pokemon sono nati e cresciuti sulle montagne Sono dei veri pokemon Tanari Oh fuck off Dalla violenza non nasce niente di buono Ma da una leale lotta a pokemon può nascere il rispetto reciproco Una lotta di pokemon è comunque violenza Se no meglio esserci aero pugno qua Fortuna che è lento come la fame Oh fuck Se è previsto lo scambio urlo Cioè non urlo ma Son of a bitch Con falci cannone Oh Colto sul fatto Non è la campionessa tipo folletta E' la campionessa tipo filler Più veloce di un albero Lo scopriremo Stasera Questa sera su Are you faster than a tree Un uomo scopre Di essere più lento di un albero Pokemon che cosa sono i pokemon? Tu lo sai? So che sono tosti e prorompenti Tutti differenti Non avete la sensazione che a un certo punto Finiscono le linee di dialogo da dare Agli NPC E cominciano a inventare O a usare un generatore automatico di bullshit Oh shit Vistro luce Cos'è quello? Oh shit E' il quarto Tapu Tapu Bubu Tsunekazu e Nobuko Fuuu Cura che cosa? Cuuu What? That's fucking cheating Dai Fanzi è utile quando non si tratta di catturare allenatori Cosa? C'è un centro pokemon qui What the fuck is this? Nostalgia boner Non il mio eh ma Vedo che si incrociano nel cielo Ho il team mezzo morto Be-be-begli ex campioni Proprio bravi Assalgono un bambino Appena arrivato da un percorso pieno di allenatori Son curioso di sapere se I fan di Rosso e di Argento e di Argolle Sul Silver Sono contenti di questo cameo Considerando che se è come quello di Blue È a caso E non ha neanche una musica particolare E non ha neanche una musica particolare Twink Ultima frana Ah Naturalmente Non puoi darmi un tentennamento gratis eh Oh Russo non dice niente Classico Citazioni C'è un centro pokemon qui Please No eh Proprio ghetto Siamo nel ghetto di Alola I tuoi box Aggiungendo una funzione Che ti permetterà di valutare i pokemon in qualsi WOOOOO The future is now I num- Potevano scrivere i numeri eh Potevano fare il passo in più C'è ci ha rimbambito adesso La tua forza mi lascia senza parole E anche senza ulteriori apparizioni Spero Che dolce è il mio Probopas Una volta mi sono fatta male E lui mi ha portato in città In braccio Se vuoi chiamarle Braccio Probopas Visto Probopas è il miglior pokemon Sì Michele si è evoluto Off screen Perché non merita di evolversi on screen Mi serve un po' di Contander Se Alla fine di sta grotta c'è ancora Rika Che mi dice Ehi hai battuto tutti gli allenatori E ora mi rivelerò come l'ultima ultracreatura Ha 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 Immagino che ci sarà una cazzino qualcosa No? Visto che è l'ultima What the? Maybe not Wow Che brutto Ok Questo è lo Snorlax dell'altro mondo Quindi è un trita rifiuti Uno Due Tre Dai dentro 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 Oh Tre Oh 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 Un do stress Un passo do sbailante Maria No Sì il design di questa ultracreatura è attivamente brutto Nel senso che qualcuno ha dovuto fare il design di sta roba Non erano pigri come con Nihiligo Nihiligo è solo blando Questo è proprio Blah Anche se trovo peggiore Crabominable E forse anche Na Tartinator è meglio Ma Crabominable è peggio La voglia ce l'ha di entrare Devo solo convincerlo Ti do impasto tutti i miei trabbici Non solo uno ma è molto buono Credimi Buona prima qualità proprio Top trash Perché sai com'è Ha mali estremi Mali estremi Uno Due Dai tre Tre No Il tre è così un bel numero È underrated Tutti vogliono essere il numero uno O si accontendano del secondo posto Ma il terzo posto? Game Freak sta ascoltando e sta prendendo appunti per il dialogo di fine gioco della prossima gen Vuoi che provo a tirare una megaball? Ma adesso sta dentro questa ultra non c'è problema Visto? Bravissimo Ti amo si il mio ragazzo per il ballo di stasera Non funziona Quei colori su di te sono divini Proprio Fuckin' Devo puntarlo sul livello sessuale Ma dove ha l'orecchio in cui soffiare? Ok adesso mi metto a cantare la sigla dei Digimon Se non entri devi sentirla tutta Digimon Digimon Non mi ricordo le parole Le mie minacce non valgono nulla Ultra Creatura Ultra Ball Te lo sto spiegando Non è difficile da capire Stai dentro Guarda cerco di dirtelo nel modo più Gentile possibile La bellezza è una cosa che abbiamo tutti dentro di noi Tu sei molto ampio all'interno Forse infinito Quindi sei molto bello Ci poteva stare una cazzin di sto coso che cercava di mangiare Alberta? Premier Ball È di primo qualità Ne ho due Sono come tartufi Il tartufo bianco delle pokeball Solo che te ne danno uno bonus Ogni dieci tartufi normali Non so L'episodio di alta era bello Perché sembrava che ci avevano messo soldi dentro Perché c'era almeno quella parte finale con Rayquaza e Deoxys qua Hmm Tipo lo stagista con Windows XP Ha messo in fila gli eventi Voilà Come on Gaslord Non diventare come tuo padre Tu padre è uscito dalla ball per comprare le sigarette Non è mai più tornato Stai dentro Basta Vieni con i tuoi amici nel PC Il PC è più simile alla vostra dimensione di partenza No? Non vuoi rivedere Buzzwall O Buzzwall ti faceva il bullo al liceo con te Era innamorato di Ferromosa Però ne ho una nel PC Se vuoi Tanto penso che i due Buzzwall Si stavano scambiando occhiolini dal fondo della stanza Quindi mi sa che forse hai una chance YES FUG THE POLICE E FUG LE ULTRA COCKBALL È stato un post game Interessante È una catastrofe Oh c'è un'ultima Wow Quindi è finita così la storia Cioè Mi aspettavo che avrebbe avuto una crisi Alberta Ma poi mi sono sposato Sono diventato padre La mia prima prova ora si chiama mutuo E lavoro per prepararmi a una grande prova un po' particolare La pensione Ma che storia La realtà man Nell'erba seriously? Non c'è neanche un modello Quanto li pagano a Game Freak? Un panino e una bibita? C'è musica Pfff A caso è apparso Necrosmo È uno scale Ah è la stessa musica degli altri 75 Ok così a caso Acciaio buio Dall'aspetto 75 Prima laser Prima laser Prima laser E dopo? È giorno però la scurbole ci sta su sto tizio Com'è che iridio non è a cavallo di questo? Level with me bro Nooo Sarebbe stato Il design mi ricordo un'ultracreatura perché non è un design da Pokémon questo È chiaro che vuole entrare Ha visto che ho catturato tutte le ultracreature e ha deciso Anch'io voglio un amico allenatore No? No? Ah vedi? Oh è solo psico Ok Probo pass More like probe my ass Ecco sto ordiraggio city che arriva Nero pulsar Forse è flinching city Per te Crabominable Ma non ti vergogni L'ultima volta ti ho rubato l'ultimo colpo al campione Ma non stavolta Good job Ho difeso il titolo Zenioch è un anagramma di Parasect Sei l'esperto di Espeon? No stavo guardando la tv you fucker Evolution di veleno Farteon L'evolution Di tipo soldi Patreon Quindi gli stream di breeding sono questo Una volta il giudice nomastico aveva una casa Adesso fa il barbone in un negozio Let's go Eevee Spacchiamo i sederi E non ti ho dato lo strumento Quindi non spacchiamo un bel niente Potenziamento evolutivo Si evolve in battaglia Mega Eevee Oh my god E' ocarina off time Ora diventa una chimera 8 test No? Cosa gli aumenta? Difesa, attacco speciale, difesa Oh man Mangia Le alghe fanno bene Le alghe fanno bene Sono piene di Microbi acquatici E Sperma di balena Wow Ho mai sentito il suo verso Cioè l'ho sentito ma non ci ho mai fatto caso Pokedex Completato Tecnicamente Asterisco Cioè insomma volevo dire Rototom Congratulazioni per questo risultato straordinario Non potevo morire alla fine Rotom Ma ora devo andarmene Ma professor Kukui è il poker ex nazionale Eeeh non abbiamo il budget Ho dimenticato una cosa All'improvviso sul galeo rugisce rivolto al cielo La leona All'improvviso su La la leona La leona La leona La leona Leona Lo Grazie a tutti. 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 Oh no, adesso trombano. Grazie a tutti.